Zamolino bianco, una novità stragrande da portare in tavola. No, non puoi portare in tavola questa? C'è il verde? Smartphone Android. Android. Quello che c'è è adesso, poi ti porti lì al cambio. E ti metti le scato quelle lì. Ti vesti già dove se ti sparchi? Ma Simone non ci metti, perché si non si forse, va tutto sporco. Io ma Simone vado con il Gis, che dirige l'ho, è la camicia di gioco. Eh, domani te le alteravano, cosa vieni? Sempre con quelle? Sì, vedi qua. Un ti ho detto, domani te le alteravano, cosa vieni? O con questo. Il resto con la peggio non lo stai, non lo porti. No, perché ho detto, fai che domani ti sporti con questo, casca qualcosa, cosa fai? Se metti il vestito quello lì già, ti sporti tutto, c'è i modi. Eh, dopo cosa vuoi? Vai a fare i piaffetti in Italia del matrimonio? No, se ti sporti lì, mi importa. Ma cosa c'è dentro tutto questo? Le rume di sette vitigni selezionate. E le bottiglie di legno fregiato. Non lo fa quello, magna, eh? È suo. È suo. Apri a con le pare. Sì, scusa. Tu apri con le mani, lui apri con i denti. Eh, ma io non c'è stato che ero nanti, se no, non c'ho fatto tanto. Sono più piccoli, eh? Dopo, magari, le scarpe, invece no, metti sempre quelle bianche senza che ti porti, no? Sì, sì. Eh, dopo te la doccia la fai stasera? Sì. I capelli non li lavare perché tanto li li lavati ieri. Almeno ti rimangono un po' in forma ancora così. No, i capelli la 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 la... Appunto! Sera, a quest'ora! un'esclusiva raccolta di preziosi riproduzioni porcellana della madre di Gesù e le sue apparizioni l'urgo, le origini, i giugoni e Fatima è sbagliato 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 ma non solo perché è l'unico con la testa di coperta è sbagliato che nell'acqua si dona gli oggettivi antipaterici in modo da tutto naturale si ora si è visto a seconda dobbiamo portare a te una missione più importante augurati di buoni testi augurati a te e con carta auguriti ti rimborsi a chi non ha 1000 euro per chiamare tutti ti aspettiamo nei negozi scusi, mi passa l'olio? mi passi l'olio? mi passi l'olio? di tal generazione ciao Paolo, mi passi l'olio? certo ma fa nel caso delle facioni passiamo grandi oli dagli amanti della buona tavola guarda chi finna guarda chi finna guarda chi finna non la più ci vede non la più ci vede non la più ci vede mai un po' più su benvenuti siamo al grande finale di questa serata speciale di soliti gnoti dedicata al Natale è quasi ci siamo quasi insomma abbiamo la mezzanotte in prospettiva siamo ovviamente tanto coinvolti da questa grazie a tutti